no 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 salve a tutti amici sono simsg e oggi giocheremo alla rotazione di version 1 ok ragazzi come vedete abbiamo soltanto 5 partite purtroppo ne abbiamo queste 3 pareggiate 1 e vinta 1 ragazzi se la matematica non è un'opinione di noi queste 5 partite le dobbiamo assolutamente vincere perchè riusciamo a fare 20 punti i punti necessari per la promozione sono 18 e quindi dobbiamo vincere tutte e 5 cose che è impossibile da fare ma comunque noi ci crediamo come vedete ho comprato anche lukaku poi al posto di cultua ho messo check e poi ho messo anche sterling ok possiamo cominciare la partita siamo in casa contro victor 1992 ok vediamo un poche squadretta 86 porca puttana e questo mi scassa con roben che c'ha il motorino royce non te lo dico gandoski butta la porta a terra e tutti super tecnici e tutti super tecnici porca noi ci crediamo sempre che anche noi abbiamo una bella squadra e con di maria tipo porca quindi come io ho paura di lui ho paura di lui credito ok attenzione questo video ti skill come il pazzo quindi stiamo attenti roben roben calcio tanto prima calcio tanto prendere la porta per la porta per la porta la porta il senzore Starridge, parlo innocenti con COSTAAA Così mi ragazzi, dai ragazzi, questo non mi fa il culo perché è il più arrabbiato Mamma mia tipo Costa Sponda tutto, è una roccia, poi Di Maria, passaggi per starridge, ho ancora Di Maria, voleva anche partecipare Di Maria Imparata poi Costa No, io ero già, c'era in porta Attenzione a GOZE, Lewandowski GOZE Attenzione, attenzione sta scendendo GOZE PALLERRE 1 e 1 Si sapeva, guarda Solo lui che Cioè, se la sbaglia veramente Questo non sa giocare a FIFA Quindi 1 e 1, meritatissimo Attenzione a ci prestaremo Si rompe il cazzo Lewandowski Lewandowski Si gira Attenzione Attenzione a Lewandowski GOZE Guardiamo ROBEN E guardiamo ROBEN Capitana E guardiamolo sto ROBEN Impossibile Impossibile da prendere Votteggio cambiato Ora siamo più recontanti Non cambierà mai Vabbè che quello c'ha il motorino al posto del culo Però che cazzo Abbiamo un difensore come i company Vai Di Maria, vai Di Maria Discattati Di Maria Provaci da qui Di Maria Due Di Maria Vai vai, vai Matic Vai Matic Passa a costa Allarga Sciurle Ancora vuoi starli? Già Non trové am Brain Finisce il primo tempo Attenzione, a gozze, uuh, traversa, traversa, la prima traversa, immaginiamo la seconda, attenzione, esce, check, no, 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 troppo paura adesso, di Maria, attenzione, no, nessun altro palo, mamma mia che culo che abbiamo, mamma mia che culo che abbiamo, Attenzione, a Robin, attenzione, a gozze, schweysteiger, donchere, donchere, attenzione, lammici, bro, caccio lammici, gozze, attenzione, vedi tipo costa, vai tipo costa, spingi, spingi tipo costa, vai tipo costa, Attenzione, a gozze, schweysteiger, donchere, 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 ciao ciao attenzione che il paranico che ho fatto così questo calcio d'angolo cross in mezzo attenzione all'arm no 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 antesimo no fuori fuori vai vim via è finita ragazzi è finita E' finita I primi dei punti ragazzi Diciamo i primi dei punti In questo video Ah che sollievo ragazzi Che sollievo aver vinto Siamo a 7 punti ragazzi Ci rimandano 4 partite Quindi io vi lascio questo video Se vi piace ragazzi lasciate un bel mi piace E commentate qui sotto Ciao